Tra le tante notizie negative che oramai arrivano dallo scalo gioiese ce ne sono anche di positive. La prima è quella che proviene dall'autorità portuale guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli che ha chiuso positivamente la sua gestione finanziaria con un avanzo di amministrazione di oltre 77 milioni di euro. Si tratta di somme in parte già vincolate alla valorizzazione infrastrutturale dei porti che ricadono nella propria circoscrizione attraverso la realizzazione di opere ritenute strategiche per un valore di 65 milioni di euro in base a quanto definito nel piano operativo triennale 2018-2020 dell'ente tra le quali assume rilevanza indiscussa il bacino di carenaggio. L'altra positiva riguarda la prosecuzione dell'altra opera definita strategica per lo scalo gioiese ed è appunto il nuovo terminal intermodale con la designazione avvenuta in questi giorni dei tre collaudatori in corso d'opera della struttura in costruzione. I lavori per l'esecuzione del progetto nuovo terminal intermodale redatto dalla società R-VIA per conto della SOGEMAR sono stati avviati circa un anno fa nella zona demaniale antistante la stazione ferroviaria marittima di San Ferdinando e sono tuttora in corso. L'area interessata all'intervento che comprende il gateway ferroviario area container ha una superficie di 61 mila metri quadrati. Il terminal intermodale ferroviario di Gioia Tauro è finalizzato principalmente ad aumentare la competitività e le funzioni superiori dei servizi di qualità del lab portuale, diventando con tale intervento corridoio intermodale comunitario e nodo di rilevanza nazionale e internazionale e crocevie di diverse modalità di trasporto. A lavori ultimati il terminal occuperà una superficie di circa 325 mila metri quadrati tra Gioia Tauro e San Ferdinando, sviluppandosi in parte all'interno del porto, nell'area doganale in concessione a MedCenter e nella zona dell'interporto.